Musica Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Un furgone portavalori è stato rapinato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all'altezza dello svincolo di Serino. Prima di darsi la fuga i banditi hanno dato fuoco agli automezzi che si stessi avevano utilizzato per giungere sul posto e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco. I banditi sono quindi fuggiti a bordo di un'auto rubata ad una donna rimasta bloccata con altre centinaia di vetture sulla carreggiata. Al momento non si conoscono particolari sull'esito della rapina, non si segnalano però persone ferite. È l'inaugurazione di un nuovo treno per pendolari di Trenitalia all'occasione per complicare ancora di più i rapporti tra Palazzo Santa Lucia e Palazzo San Giacomo. Dal treno Jets alle funicolari di Napoli il passo è breve, i trasporti ovviamente il terreno individuato dal governatore Vincenzo De Luca per riattizzare la fiamma dello scontro con il sindaco De Magistris. La chiusura anticipata per la malattia dei capi servizio che ha lasciato per quattro giorni di fila appiedati gli utenti di tre funicolari non è andata giù al presidente della regione Campania. Ma sappiamo ovviamente che questa è la croce che abbiamo per il trasporto in Campania, la croce è la città di Napoli dove l'azienda di proprietà del Comune di Napoli continua a versare una situazione di crisi drammatica. Devo dire francamente che mi colpisce molto il fatto che non si riescano a tenere attive neanche le funicolari. E che diavolo? Io posso capire i problemi aziendali ma almeno la funicolare e teniamola aperta. Non mi pare un grandissimo impegno. Vediamo, noi stiamo seguendo ovviamente questa avvertenza da anni. Per quello che ci riguarda, come sapete, stanziamo 55 milioni di euro ogni anno per l'azienda di proprietà del Comune di Napoli per la quale il Comune di Napoli non stanzia neanche un euro. Di certo c'è che non ha aiutato nei rapporti tra i due rappresentanti delle principali istituzioni cittadine l'ipotesi che De Magistris possa candidarsi alle regionali come avversario dell'ex sindaco di Salerno. Per litigare bisogna essere in due. Per adesso c'è uno solo che lavora, quindi è difficile litigare. Con chi devo litigare? Dopodiché non c'entra assolutamente niente i rapporti, relazioni. C'è un'azienda di proprietà del Comune per la quale il Comune deve preparare un piano aziendale. Punto. Se lo prepara, bene. Se non è in grado di fare, male. Che c'entrano le altre questioni di relazione? Un'area recintata di 3.000 metri quadrati in cui erano stoccate oltre 400 tonnellate di rifiuti speciali è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza Tufino. I militari della compagnia di Nola hanno sorpreso in fragranza un uomo che scaricava nell'area dei rifiuti speciali ed è stato denunciato. Salgono così a 12 le discariche abusive scoperte quest'anno dalle fiamme gialle nolane per una superficie complessiva di oltre 26.000 metri quadrati. Orologi, bracciali diamanti, anelli, pacchetti regalo sono le luci del borgo Refici realizzate dal consorzio. Un enorme diamante è il simbolo del Natale 2018. Dopo anni di buio, insomma, torna la festa in una zona sottovalutata dall'amministrazione cittadina che per questo Natale non ha stanziato un euro per il borgo vicino il Corso Umberto. Pur rappresentando una delle eccellenze della città, pur essendo stata una delle zone interamente videosorvegliate oggetto di un profondo restyling, il borgo non ha mai fatto il tanto atteso salto di qualità per colpa dell'amministrazione comunale. Il presidente dell'antico consorzio, Borgorefici, Roberto De Laurentiis, sottolinea Le nostre illuminazioni rappresentano le nostre potenzialità. E ovviamente, io dico sempre, in piena sicurezza, passeggiare al Borgorefici, con tutto il rispetto per i decumani, che io lo vedo inflazionato. Borgorefici rappresenta un po' la cultura partenopea, perché non dimentichiamo che il Museo di San Gennaro, e con tutte le sue opere, rappresenta un po' il simbolo del Borgorefici di Napoli. E le sue opere sono tutte quante create qua, in questa zona, che ancora tuttora è custode di queste tradizioni. A tenere a battesimo le luminari è l'assessore alla cultura Nino Daniele e l'assessore allo sport Ciro Borriello. Fare in modo che il gran numero di turisti, direi senza precedenti, che ormai da qualche anno viene dalla nostra città, oltre ad affollare alcune zone di grande importanza storica, riscopra l'insieme della storia della nostra città e luoghi pieni di fascino e pieni di suggestioni e pieni di significati da trasmettere, come appunto il Borgorefici. Un caporale bulgaro, 50 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza Sparanise nel Casertano, dopo essere stato sorpreso su un fondo agricolo a controllare il lavoro di almeno 20 braccianti, tra cui una donna invalida, una minorenne di 14 anni e una donna in stato di gravidanza, tutti intenti alla raccolta di fagiolini sotto serra. Era da tempo che i finanzieri tenevano sotto osservazione il 50enne bulgaro, sospettato di essere uno dei caporali che ogni giorno recluta per conto di imprenditori agricoli decine di braccianti esfruttati per parecchie ore a pochi euro al giorno. Un'indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capoavetere, che negli ultimi mesi, nell'ambito di un'inchiesta denominata Black Job Market, ha arrestato numerosi caporali, quasi sempre tutti stranieri. L'uomo acquistava partite di ortaggi che successivamente venivano venduti ad altri operatori del settore, realizzando così illeciti profitti fino al 400% del costo della mano d'opera sfruttata. Il ciclo dei rifiuti in Regione Campania, la mancanza di impianti di compostaggio, il futuro della frazione indifferenziata, le strategie di investimenti in quello che è un settore vitale in primis per la salute e per l'ambiente, ma anche per l'economia. Tutti questi argomenti al centro della conferenza stampa, convocata dal Movimento Sud protagonista. Ascoltiamo il segretario federale, Salvatore Ronghi. Siamo in piena crisi. Tra poco avremo un altro lotto delle città, pieni di monnezza, e avremo i stir completamente colmi. Le gare sono andate deserte, a dimostrazione che questa regione non è in grado neppure di elaborare dei capitolati di appalto. Nessuna azienda ha ritenuto partecipare, quindi abbiamo una crisi seria che non riescono ad affrontare. Intanto i cittadini continuano a pagare la tassa più alta d'Italia senza avere il servizio. Intervenuta Loredana Gargiulo, coordinatrice di Sud protagonista per l'area vesuviana. Bisogna imporre alle imprese maggiore ecosostenibilità, intervenire nell'ambito normativo sempre a proposito dell'esposizione a radiazioni da radon, che è un argomento poco trattato ed è una delle principali cause di cancro polmonare. E infine il terzo e l'ultimo punto, garantire la salubrità delle acque attraverso moderni sistemi tecnologici. Ascoltiamo Orlando Cioffi, segretario nazionale di Italia VicTrix, aderente a Sud protagonista. Ribadiamo che la cotta differenziata come un grano di sale possa essere la soluzione alle problematiche dei cittadini italiani e per creare nuova occupazione dove vengono inseriti i lavoratori del CUB che sono ancora precari e che stanno effettuando un corso di riqualificazione da parte della regione campana in un percorso al lavoro e soprattutto anche di creare nuova occupazione per tanti giovani napoletani e campani che sono in attesa della prima occupazione. Una banda di rapinatori composta da sei persone ritenuta colpevole di aver messo a segno tre colpi è stata sgominata dai carabinieri di Napoli che hanno arrestato sei persone. I militari hanno bloccato la banda prima che portasse a termine un'altra rapina in banca, sventata anche una rapina ad un rappresentante di gioielli. I militari della stazione Chiaia hanno notificato agli indagati sei misure cautelari gravemente indiziate a bario titolo di rapina aggravata, ricettazione ed evasione. A coordinare l'attività investigativa iniziata il 9 agosto del 2017 dopo una rapina ai danni di un istituto di credito sono stati i procuratori aggiunti di Napoli, volte e falconi, in quell'occasione due componenti. La banda, armati di pistole e con il viso parzialmente coperto, si fecero consegnare dai dipendenti 2.500 euro, fungendo naturalmente dopo. Un concerto per abbattere le barriere che impediscono alle persone non vedenti di accedere alla cultura. L'ha voluto organizzare a Napoli l'eurodeputata campana Isabella Dinolfi del Movimento 5 Stelle, rappresentante delle commissioni culture e uguaglianza di genere, per celebrare la ratifica da parte dell'Unione Europea del Trattato di Marrakesh. Trattato internazionale grazie al quale dal 2019 sarà più facile per le persone cieche accedere agli spartiti musicali e ai testi stampati. Per l'occasione nell'auditorium Ciccolini di Via Monte di Dio sul palco si sono esibite Angelica Borrelli, Giuseppina Manzi e la compagnia musicale dell'Unione Italiana Ciechi e i povedenti di Napoli. Ad accogliere l'euro parlamentare il consigliere della seconda municipalità Lorenzo Iorio. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in Europa stanno operando bene, stanno operando nel silenzio che può sembrare un non far nulla ma non è così, stanno operando benissimo, questo trattato dimostra che Isabella si è mossa bene in questi anni, ha saputo portare a casa diversi risultati, questo è uno dei tanti che abbiamo conoscenza oggi, siamo contenti di vederlo in questa città che è patria della musica con il Teatro San Carlo. Sul palco all'ussari dettami del trattato il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Napoli, Mario Mirabile e la parlamentare europea Isabella Di Nolfi. In Italia, che è il paese della lirica, della musica, della cultura, soltanto il 10% degli spartiti musicali sono tradotti in formato accessibile ai non vedenti e questo è una vergogna perché parliamo tanto di cultura e poi invece che cosa succede? Che non ci sono azioni concrete, ecco invece per rendere la cultura veramente accessibile a tutti quanti e per migliorare la vita delle persone c'è bisogno di azioni concrete e questa è un'azione concreta. Buonasera Teresa Lucianelli, una collega giornalista ospite nel nostro telegiornale per presentare un'importante rassegna, una rassegna che ha uno sbocco sociale, quindi siamo contenti per questo, uno sbocco solidale, infatti si raccoglieranno fondi per i bambini meno fortunati. Buonasera Teresa, grazie per essere intervenuta nel nostro telegiornale. La rassegna insieme per il territorio è un Natale d'amore, un evento solidale promosso nell'ambito di una rassegna itinerante che tu porti avanti da tempo, saluti, alimentazione, bellezza, tutto quello che non sanno. Tutto quello che non sanno perché c'è tanta gente che effettivamente non sa come nutrirsi adeguatamente, non sa come bere adeguatamente, prendendo spunto da questo e dalle eccellenze territoriali campane, io ho appunto ideato questa rassegna che ha sempre uno scopo solidale. In questo caso donare un Natale degno, un Natale possibilmente sereno sicuramente, un Natale gioioso ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale Pausillipon e i piccoli degenti in pediatria al nuovo Oliclinico. Dove si svolgerà questa rassegna? Si svolgerà il giorno 20, la sera del giorno 20 dicembre, è un giovedì, alla Baita del Re Resort a Ottaviano del Patrone Chef Nunzio Illuminato, è una location molto ampia con un parco stupendo, il punto più panoramico nella zona vesuviana. Chi ha aderito questa rassegna e come si snoderà? Perché ci sono vari appuntamenti nell'ambito di questa rassegna. Il punto focale sarà un cenone pre-natalizio di eccellenza che si svolgerà dalle ore 8 serali, perciò dalle ore 20 in poi, al quale hanno aderito molti degli chef che fanno parte ormai della mia squadra collaudata da circa 4 anni. Ci sarà il bistellato Francesco Sposito di Taverna Estia, ci sarà l'altrettanto stellato Pasquale Palamaro di Indaco, Regina Isabella Ischia, ci sarà l'annunzio, oltre all'annunzio illuminato chiaramente il Patrone, ci sarà l'annunzio spagnolo già su Chef di Marchesi. Insomma sono tanti gli chef che veramente hanno voluto… Ci sarà Paola Fiorentino di Positano, Maison de Charme di fama mondiale, Villa Fiorentino e Villa dei Fisici, ma giusto per fare qualche nome, per una causa giusta, perché sono tutte persone, tutti chef impegnati in prima persona in campo solidale da sempre. Ci sarà anche il contributo delle scuole, parteciperanno anche molte scuole? Sì, tra cui in particolare la primaria e secondaria di Ottaviano, la primaria e secondaria di Castellammare di Stambia, che porteranno i loro lavoretti perché nel pomeriggio dalle ore 15 ci saranno i mercatini solidali, verranno venduti questi lavoretti dei bambini per i coetani meno fortunati ricoverati, il che mi sembra una cosa sinceramente, perdonami mi commuove, questa cosa è molto bella, oltre a tanti produttori locali, artigiani che esporranno la propria merce e chiaramente terranno presente in questo la nostra causa, ci sosterranno. Quindi con il ricavato di questa manifestazione si provvederà ai bambini, abbiamo detto meno fortunati, concretamente i bambini. Sì, grazie a una onlus diamo una mano che è abituata ad operare proprio in ambito ospedaliero proprio con i piccoli pazienti, si organizzerà appunto questa visita in ospedale, saranno vestiti da Babbo Natale e da Elfi, giocheranno con loro, cercheranno appunto di portare, di appare in alcuni casi un sorriso e ci sarà la donazione dei giocattoli ai quali parteciperemo chiaramente noi a questi eventi, oltre a chi vorrà venire con noi che partecipa appunto quella sera a questo evento. Se i nostri tre spettatori volessero partecipare all'evento, praticamente cosa devono fare? Siamo in conclusione. Basta mettersi in contatto con la Baita del Re Resort Ottaviano. Ripeto, Baita del Re Resort Ottaviano. E allora in bocca al lupo per tutte le altre iniziative, noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Ieri sera una prova di maturità l'ha definita Ancellotti, una vittoria del cuore quella del Napoli. Ma sicuramente una vittoria del cuore, perché oramai sono decisi a fare qualcosa di veramente buono quest'anno. Con le ultime partite della Juve comunque sta dimostrando di essere comunque una grande squadra. Ovviamente noi speriamo sempre una rimonta, perché sarebbe veramente un sogno, coronato dopo tanti anni in cui comunque il nostro presidente ci ha sempre dato qualcosa di più. Negli ultimi anni l'Inter non è mai riuscita ad essere concreta, soprattutto nelle partite importanti, però la speranza, come detto anche prima, è sempre accesa. Bellissima partita ieri sera. Però la cosa importante che conta è che siamo comunque a otto punti sempre della Juve e questo campionato secondo me finirà così, con la Juve sempre che vincerà l'ennesimo scudetto per, non lo voglio nemmeno nominare il motivo. Milik è un grandissimo giocatore, diciamo che a tutta la squadra manca soltanto quella costanza, è la costanza che manca, ma poi siamo tranquillamente una squadra che può lottare contro la Juve. Il Napoli allunga sull'Inter, venerdice Inter-Juventus, possiamo sperare in un passo falso dei bianconeri? Io lo spero, potrebbe esserci, potrebbe esserci, perché l'Inter è una grande squadra, quindi potrebbe combattere tranquillamente. Ci vuole il coraggio, il coraggio è quello che manca, la Juve spaventa, non bisogna spaventarsi. Dobbiamo sperare fino all'ultimo, la Juve è forte sia sul campo che a livello arbitrale, ma il Napoli fa un buon gioco e dobbiamo sperare comunque fino all'ultimo, anche per quanto riguarda la Champions League. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni, intanto continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.